EGR, FAP e ADBLU, eliminiamo tutto. So che questo è quello che volete sentirvi dire ma credo che sia giusto approfondire meglio la cosa perché non è proprio una passeggiata da parecchi punti di vista per cui approfondiamolo meglio. Partiamo dal punto di vista tecnico, sicuramente eliminarli renderebbe la nostra auto più prestante e meno soggetta a rotture eliminando tutto quello che potrebbe creare un ostacolo alla normale circolazione dei gas di scarico soprattutto se parliamo di EGR e FAP. La DBLU o meglio il sistema SCR è un altro discorso. Dicevamo eliminando EGR e FAP liberiamo il passaggio, il tragitto che i gas di scarico fanno dalle valvole di scarico fino al tubo di uscita della marmita. Diciamo subito però che è un po' più complesso di così perché andrebbero prese delle accortezze, esistono dei kit che permettono di creare le giuste contropressioni vitali per il turbocompressore soprattutto se stiamo parlando di eliminare il filtro antiparticolato. Il motore respirerà meglio, le prestazioni aumenteranno, diminuiranno anche i consumi e si elimineranno i problemi principali dei moderni motori diesel. Il costo di queste modifiche non è a buon mercato però ma se uno mette in conto di farci centinaia di migliaia di chilometri con la propria auto sicuramente il risparmio che si potrebbe avere in termini di eventuali riparazioni e sostituzione di questi componenti e di un minor consumo di carburante potrebbe renderlo allettante. Ma perché ci sono molti ma? Il primo è di carattere legale, modificare meccanicamente ed elettronicamente le nostre auto non è permesso dalla legge italiana e modificare i sistemi anti inquinamento potrebbe essere anche punito penalmente a seconda della gravità. Oltretutto se si viene beccati con l'auto modificata ci verrà chiesto di riportarla alle condizioni di fabbrica con l'obbligo di fare nuovamente il collaudo in motorizzazione. Consigliare di effettuare queste modifiche troppo alla leggera lo trovo sbagliato. Vedo un sacco di video in cui spiegano solo le cose positive ma non a cosa si incorre se si viene beccati. Oltretutto credo che non sia neanche del tutto legale questo loro comportamento perché le modifiche che vi offrono sono legali solo per auto che andranno in pista e che non possono certo circolare su strada ma questo non lo sento dire tanto spesso anzi. Vediamo adesso al succo della questione e cioè vale la pena investire ancora su un'auto diesel addirittura modificandole o sarebbe il caso di cambiare motorizzazione? E non intendo l'elettrica parlo sempre di un'auto con un motore a combustione interna. Una buona e sana benzina per esempio. Siamo cresciuti con questa motorizzazione. Le auto sportive sono principalmente a benzina e i consumi non sono più quelli di 20 o 30 anni fa. Sono molto diminuiti e soprattutto non hanno i problemi, la maggior parte almeno, con i sistemi anti inquinamento. Ma se puntiamo al risparmio possiamo sempre considerare le auto a gas, metano o GPL che funzionano bene e sono ben collaudate e i consumi sono sicuramente ridotti. Inutile insistere sul diesel se poi dobbiamo metterci mano per modificarlo, renderlo fuori legge e rischiare anche una denuncia penale. Oltretutto se le cose rimangono così e non si ravvedono per quanto riguarda il discorso della transizione ci sarà da tenere in conto il possibile depreciamento delle motorizzazioni a gasolio e spendere una cifra importante oggi potrebbe essere un cattivo investimento. Io penso che piuttosto che rinunciare alle motorizzazioni termiche è meglio puntare su un'auto a benzina o gas, soprattutto se l'elettrica è lontana dalle nostre possibilità. Invece di insistere su un'auto a gasolio che ormai sono state già demonizzate e additate come il male assoluto per l'inquinamento mondiale. E ve lo dice uno che non solo ha sempre guidato auto a gasolio, smart a parte, e che si trova male a guidare con auto a benzina, ma che con queste motorizzazioni ci campa perché la mia officina si occupa principalmente di veicoli pesanti e il diesel è l'unica vera motorizzazione valida per questi veicoli e lo stop di un loro sviluppo potrebbe essere un vero e proprio tsunami per la mia attività. Anche il discorso dei carburanti alternativi è molto incerto, di e-fuel se ne parla poco e i biocarburanti sono troppo limitati, in termini di risorse intendo, quanti litri potrebbero esserne prodotti, è quasi insostenibile. Oltretutto per quanto potrebbero essere davvero alla portata di tutti, potrebbe essere tardi se viene fatto troppo a ridosso del 2035. Un piccolo appunto sulla di blu e sulla confusione che gira intorno ad esso, soprattutto quando viene detto che rovina il motore. E vi posso dire senza ombra di dubbio che è una stronzata enorme. Il sistema SCR non ha nulla a che fare con il motore, l'unico punto di contatto che hanno questi due sistemi è nella serpentina che si trova all'interno del serbatoio della di blu, nella quale scorre il liquido radiatore per permettere a questo additivo di rimanere a temperature costanti e niente altro. Ha un serbatoio per i fatti suoi, un sistema di iniezione per i fatti suoi che non fa altro che iniettare questo additivo direttamente nella marmita per abbattere le sostanze inquinanti. Non strozza il motore, il flusso dei gas si discarica, non concorre alla rigenerazione del filtro antiparticolato, nulla. Il motore quindi non lo rovina di certo. Quello che può rovinare è il nostro conto in banca, quello sì, perché se si rompe i soldi da spendere possono essere davvero tanti. Ma smettete di dire che rovina il motore, perché non c'entra nulla. Fatto questo appunto, anche qui vale discorso legale al fatto prima, toglierlo va contro la legge, anche qui punibile penalmente e anche qui se si viene beccati si dovrà ripristinare tutto e andare a collaudo, con una piccola differenza però. Ripristinare un impianto SCR potrebbe costare più dell'auto stessa, anche se stiamo parlando di un'auto relativamente recente, perché fermare questo sistema potrebbe dire compromettere del tutto la pompa, le tubazioni, il serbatoio, il catalizzatore e arrivare a spendere cifre vicine ai 10.000 euro non è così lontano dalla realtà, senza contare un'eventuale multa e il collaudo e soprattutto senza contare il fatto che poi dovreste rivenderla solo a chi non gli importa se questo sistema funzioni o meno, altrimenti avete tra le mani un'auto con una sola via, quella del rottamaio. Per finire quindi, queste modifiche fanno bene al motore? Certamente sì, e al conto in banca probabilmente pure, ma deve andarvi sempre tutto bene e questo va tenuto in conto, perché anche se vi sembrerà assurdo, e per certi versi lo è, chi fa queste modifiche viene considerato un criminale peggiore di chi vi entra in casa per rubare nel vostro appartamento, anzi probabilmente per questi ultimi le pene possono anche essere minori. Bene, penso di non dover aggiungere altro, fatemi sapere voi cosa ne pensate, a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento. Ciao ciao!